ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole oggi ragazzi unboxing secondo me ha poco senso vedere i coltelli senza provarli però me li state chiedendo in tanti quindi insieme oggi ci vediamo un camset e un kaiser ragazzi andiamo a vederli insieme eccoli qua ragazzi due coltelli che stiamo per andare a unboxare due coltelli nuovi li ho presi per un amico quindi non sono miei ragazzi li apriamo solo per vederli ragazzi mi avete chiesto gli unboxing secondo me hanno veramente poco senso nel senso che andiamo a vedere due coltelli scarto due coltelli me li guardo e vi dico le mie sensazioni secondo me sono veramente un po recensioni un po così le avete chieste proviamo a farle vediamo un attimino che riscontro hanno però ripeto i coltelli vanno provati secondo me hanno poco senso però ripeto visto che le fanno in tanti vediamo ragazzi poi mi dite la vostra abbiamo un kaiser ragazzi e un camset iniziamo col kaiser allora scatolina nera ragazzi mi sento anche un po un coglione a fare gli unboxing perché non ne ho mai fatti visto che ripeto non li trovo utili comunque scatolina nera con le nostre specifiche ship dog che è il modello del coltello 154 cm g10 verde e liner in acciaio andiamo a aprire la scatoletta che non ha sigilli ragazzi non ha sigilli né di qua né di là dentro c'è la sua bella eccola qua scatolettina di plastica con manualetto di istruzioni però noi non ce ne frega niente vediamo il coltello ragazzi eccolo qua che è dentro nella sua bella scatolettina di plastica ragazzi eccolo qua tiriamo fuori ed eccolo qua eccolo qui ragazzi kaiser ship dog questa è la versione piccola ragazzi non mi ricordo è il mini 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 ship dog ragazzi allora partiamo dal coltello chiuso ragazzi sono un po impacciato ma ripeto perché non so proprio farle allora coltello da chiuso ragazzi g10 verde un buon grip qui abbiamo il perno con l'alluminio anodizzato lama centrata ragazzi centratissima direi che ci siamo ragazzi coltellino che non è male non è per niente male clip usabile tranquillamente apertura fluidissima ragazzi apertura fluidissima proprio perché ha cuscinetti in ceramica l'apertura è veramente tanta roba ragazzi veramente stra fluida stra fluida si apre veramente in un secondo costruzione su liner alleggeriti si alleggeriti in acciaio ragazzi quindi comunque la sua bella solidità in mano sta bene ragazzi questa finger per l'indice rende il coltello super sicuro da usare un coltello con lama ship ship foot scusatemi ovviamente disegnato da chris con away della lunghezza di 16 centimetri con questa lama dicevamo appunto ship foot di 6.9 centimetri su uno spessore della lama di 2.7 mm in 154 cm ragazzi 154 cm che rimane uno dei miei acciai preferiti ho avuto anche un grip tillian ragazzi si parla di altri prezzi a questi qua sono due coltelli entrambi ragazzi costano ogni coltello costa sulle 92 100 euro ragazzi poi li potete trovare scontati più o meno il loro prezzo di vendita intorno ai 100 3 90 e i 100 euro costruzione aperta ragazzi così potete pulire benissimo il coltello vi faccio vedere un difetto del coltello che però ragazzi non ho inventato io perché prendo il coltello adesso ovviamente non ci ho neanche giocato è questo ragazzi il liner ha pochissimo spazio per il disimpegno quindi è un pochino difficile da prendere però una volta preso guardate quando lo disimpegnate e andate a chiudere ok alcuni mi possono dire vabbè così non ti tagli il dito perché la lama ovviamente vedete qua in questo punto non potete andare avanti perché si ferma il vostro pollice da qui sbloccate e chiudete ragazzi chi la vede come sicurezza chi la vede un pochino come impedimento nella chiusura che è da fare per forza in due movimenti per quale motivo perché quando vado a disimpegnare c'è ancora la sferetta di ritenzione che adesso vediamo se riesco a farvi vedere sul liner eccola la vedete la vedete là in fondo là in fondo quando voi andate a disimpegnare il primo pezzettino ok non consente al coltello di chiudersi vedete perché c'è la sferetta che frena ancora da qui potete chiuderlo tranquillamente ripeto è boh per qualcuno una sicurezza per me un po soprattutto che si ferma sul liner sulla sulla sferetta di ritenzione del liner e non scende è un po un peccato dovete chiuderlo per forza in due colpi in mano ovviamente sta bene abbiamo detto g10 buono ragazzi il g10 è buono ha un buon appoggio si può andare a tagliare tranquillamente sapete che comunque la lama ship foot a me piace veramente parecchio clipettina ragazzi un coltello che se il 154 cm è temperato bene ragazzi secondo me per il prezzo che è un coltellino che potete ragazzi tranquillamente provare è abbastanza leggero pesa 90 grammi ragazzi meccanica come ho detto su cuscinetti a sfera quindi figo avete anche l'abbellimento anodizzato azzurro ragazzi coltello scattante un coltello che per il suo prezzo se l'acciaio funziona bene non sono soldi buttati ovviamente vi deve piacere il modello ragazzi e parliamoci chiaro veniamo al nostro campset ragazzi campset confezione ragazzi spaziale confezione spaziale anche questa qua non ha nessun tipo di blocco di cellofanino che la chiude eccolo qua modello little main street poi abbiamo black coat in 154 cm g10 nero e style steel style steel si andiamo a vederlo che bella la confezione è bella ragazzi è bella dentro abbiamo sempre le classiche istruzioni che come al solito a noi non ci interessano eccolo qua abbiamo dentro anche il sacchettino ragazzi anti umidità quindi tanta roba il nostro pacchettino la nostra custodia ragazzi del nostro campset eccolo qua apriamo tiriamolo fuori ragazzi questo è veramente piccolo è questo è veramente piccolo veramente veramente piccolo però ragazzi vi dico piccolino lo potete mettere dovunque un attimo di pulita ragazzi bellino piccolino bellino scattante lama warna cliff ragazzi disegnato da dirk pinkerton che è famoso appunto per disegnare lame warna cliff eccolo lì il suo logo ragazzi anche questo qua in 154 cm ragazzi questo è veramente piccolino è piccolo 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 è tre dita ha un difetto che secondo me hanno due coltelli che non hanno il foro per il laccetto maledizione mentre questo è un buon quattro dita scarse ragazzi le manine piuttosto medie diciamo non dico piccole però non sono grandi questo qua è un quattro dita scarso questo qua è un tre dita è proprio un tre dita secondo me con un laccettino si sarebbe potuto tenere in mano molto meglio ho provato a mettere l'accettino sull'ultimo eccolo qua sull'ultimo distanziale però ragazzi prende dentro con la lama quando la quando andate a chiuderla anche questo qua lo spazio per il liner è veramente piccolo ok non avete abbastanza spazio poco alla volta ve lo taglia è un difettino che secondo me poteva essere tranquillamente ovviato con il foretto per il lacciolo anche qua abbiamo movimento super scattante su cuscinetti in ceramica questo ragazzi mi piace proprio questo è veramente bello anche se è piccolo ripeto tre dita con il laccetto sarebbe stato meglio però cavolo è bello è bello bello tra i due ragazzi preferisco di gran lunga il camset little main street che ha una lunghezza totale di 14 centimetri 6 centimetri di lama ragazzi 6 centimetri di lama su uno spessore di 2.8 pesa 50 grammi ragazzi coltello che praticamente non sentite neanche anche qui il liner è un po una rottura di balle perché non hanno lasciato lo spazio per disinserirlo vedete dove entrare dovete entrare con l'unghietta però lo chiudete tranquillamente ragazzi clipettina bel coltello alla fine la clipettina non è reversibile come vedete vediamo sull'altro che non ho guardato nemmeno sull'altro ragazzi la clipettina è solo per destrorsi i mancini si attaccano pesantemente ragazzi anche questo qua costruzione aperta è quello lì che non parte eccolo qua costruzione aperta con guancettine in acciaio sotto le cartelle in g10 nero quindi comunque costruito bene ragazzi sono due coltelli costruiti veramente bene sono costruiti se vanno fuoco eccoli qua sono costruiti veramente bene due piccoli chiudibili robusti con movimenti entrambi su cuscinetti in ceramica tutte e due con un pochettino di problemini nel movimento di blocco ma tutte e due ultra scattanti ragazzi sono davvero due bei coltellini scattanti ripeto non sono il mio genere ragazzi non sono il mio genere ma li ritengo dei buoni coltelli se l'acciaio ovviamente tiene è questo il punto degli unboxing ragazzi io come posso parlarvi dei coltelli se non li ho provati anche perché il coltello una volta che lo provate in mano io vi dico le mie sensazioni in mano così però una volta che ci andate a lavorare poi magari vi accorgete che non avete la presa efficace quando spingete questo piccolino è giusto per aprire i cartoni le scatole secondo me ragazzi è un bel coltellino non ha la presa a quattro dita però si può guidare tranquillamente ragazzi coltellini belli coltellini nuovi che non abbiamo provato che domani mattina consegno quindi ragazzi prendetevi un po questo unboxing che non sono assolutamente capace di fare come una prova andiamo alle conclusioni finali kaiser e campset ragazzi già rimessi nelle loro confezioni già pronti ad andare al loro proprietario ragazzi ho fatto questo favore a un amico di prenderglieli ragazzi sono due coltelli che secondo me sono dei buoni chiudibili dei buoni edisi ovviamente senza provarli non ho idea di cosa dirvi perché sono due coltelli che ho aperto ho guardato ragazzi però ovviamente il coltello va sempre 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 provato per questo secondo me questi video ragazzi sono un po video senza senso chi vi apre il coltello oppure chi vi fa vedere i coltelli nuovi ragazzi mi fa vedere i coltelli con la lama nera perfetta che non ha mai usato e vi racconta del coltello secondo me ragazzi sono un po video senza senso delle perdite di tempo sia per chi li fa sia per chi li vede perché ovviamente il coltello va descritto per come lavora per le sensazioni che vi dà e non sicuramente tirato fuori da una scatola e guardato per il resto ragazzi dai kaiser dal campset dal parchetto del tagliagol è tutto buona giornata e ciao